Ed eccoci con voi, il nostro ospite è qui alla mia sinistra, buongiorno dottor Gilberto Gamberini. Buongiorno, grazie. Allora, lei esercita la professione a Cassacco, è un medico di famiglia. Le chiedo subito che idea si è fatta di questa pandemia che sta finendo, è finita, come possiamo valutare il momento? È difficile perché poi le notizie sono state infinite, sembrerebbe partita dalla Cina, dalla zona di Wuhan, anche se appunto resto perplesso perché è un laboratorio militare, quindi con le misure di sicurezza cinese, avevo letto che erano state vendute le cavie al mercato della città, mi sembra un'ipotesi un po' difficile da… Perché? Beh, perché i sistemi di sicurezza cinese sono molto drastici in tutte le loro soluzioni, quindi non credo che abbiano potuto portare fuori una cavia, anche perché in genere hanno turnazioni, l'esercito è molto lunghe e non possono uscire dai centri militari. Ma a parte questo, che è una mia considerazione magari totalmente sballata, resto perplesso perché anche da notizie che sento che hanno trovato positività, eccetera, come anticorpi, eccetera, in diverse parti del mondo, resto perplesso perché ad esempio, come riportavo precedentemente, io avevo avuto a settembre tre casi molto strani, nel senso che ho avuto una persona, e poi il fratello, e poi una zia, a distanza di tempo uno dall'altro, quindi che poteva starci per un contagio progressivo, di polmoniti interstiziali. Chiaramente sono state classificate come polmoniti influenzali, ma l'influenza doveva ancora arrivare. Quindi cosa è stato? Sono dei dati che ti fanno pensare, quindi magari si può ipotizzare un'origine di questo virus che non necessariamente si è partito dalla Cina, ma addirittura si è partito dall'Europa, o da qualche laboratorio che in qualche modo ha perso, volutamente o per errore, ha perso il virus per strada. Ecco, Gamberini, lei qualche mese fa diceva sì, è giusto utilizzare tutti i presidi, ma stiamo all'aria aperta. Perché? Sì, perché il senso, come adesso se ne parla, cioè il discorso del presidio chiaramente valeva nel periodo in cui il Covid-19 aveva la sua massima espansione, anche se in realtà qui in Friuli è stato molto contenuto. Io già le citavo che ad esempio nei miei pazienti io non ho avuto alcun caso positivo, può essere stato anche per fortuna, non lo so. Però questo dato è importante perché uno deve misurarsi con la realtà, non solo con quello che legge o che sente. Si diceva dell'aria aperta perché certamente hanno fatto delle normative che dovevano riguardare tutta la nazione, evidentemente non puoi fare delle normative standard qui e là, però effettivamente nelle nostre zone in cui c'è una bassa densità di popolazione, sono vaste aree aperte e la maggioranza della popolazione è localizzata in piccoli paesi e in piccole frazioni, in borgate, il senso di stare chiusi in casa come dei topi non era proprio il massimo del controllo della salute pubblica, visto la disponibilità di queste situazioni, anche perché al sole, diciamo il sole esercita attraverso i raggi ultravioletti una azione disinfettante, oltretutto camminare fuori, diciamo migliore al tono del rumore perché si seccerna in serotonina, cosiddetto ormone della felicità, quindi si sta meglio anche psicologicamente, non solo fisicamente e poi diciamo si aumenta la sintesi di vitamina D che come dicevamo l'altra volta può avere un significato anzi anti-infettivo, tant'è vero che è stata usata, mi sembra Bergamo, proprio ad alte dosi, accanto chiaramente ad altre terapie principali. Senti abbiamo visto nelle immagini, eccola qui ancora, le immagini del nostro Campigotto, la nostra regia, Udine non è più, per fortuna non è più così, abbiamo visto un piazzale Chiaveris prima completamente deserto, ma adesso noi continuiamo a vedere delle persone che indossano la mascherina all'aperto, anche se sono sole, anche se sono solo in macchina, serve o non serve? No, in quel caso non serve perché se noi parliamo di contagio e lì anche la distanza è discutibile poi la capacità, se uno può stare nuda evidentemente contagia di più o se tossisce di uno che respira normalmente perché la distanza aumenta, è stato calcolato in diverse misurazioni, ma diciamo che quando sei in un luogo isolato non ha alcun senso, forse perché, io capisco anche le persone, perché forse di ricevere migliaia di informazioni, in cui anche le informazioni scientifiche sono state trasformate in dibattito quasi politico, alla fine uno non capisce niente, cioè devi dare alle persone informazioni chiare e semplici in modo che faccia le cose giuste, io ho visto anche io in mezzo alla campagna persone con la mascherina, cioè chi infetti i cinghiali, cioè voglio dire non ha senso, poi magari capita che come dicevi giustamente vedi gente con la mascherina in auto e che poi scende dalla macchina, incontra l'amico, tira giù la mascherina perché pensa che l'altro non lo capisca e parla senza mascherina a 20 centimetri perché magari l'altro è un po' sordo, sì ma sono comportamenti che io credo dipendono anche dalla disinformazione, perché uno non capisce più nulla. I guanti, prima più guanti per tutti, poi col tempo è venuto fuori che praticamente erano degli ottimi... Sì perché anche i guanti in teoria dovrebbero essere monouso, monouso nel senso di metterli e toglierli ogni volta che tocchi qualcosa o tocchi qualcuno, tenuti sempre su diventano anche questi un veicolo, magari in maniera minore rispetto ad altre superfici o ad altri materiali, ma diciamo che la cosa migliore resta quella di poter lavarsi le mani se non c'è la possibilità, oppure lavarsi le mani più il disinfettante, oppure se non c'è la possibilità di lavarsi le mani l'uso del disinfettante. Ecco Gamberini, alcol chi l'ha visto? L'alcol adesso proprio ci pensavo venendo qua, adesso io l'ho visto finalmente, l'ho visto nei supermercati, adesso c'è, si vede che è uscito in qualche maniera, all'inizio appunto non ce n'era, quindi ti mancava un mezzo di disinfezione importante e come ti dicevo l'altra volta c'era stata anche una decisione prefettizia che avevo proprio ascoltato nella vostra televisione su Telefriuli che diceva che erano state trasformate l'alcol a uso alimentare, trasformato in alcol denaturato appunto per supplire alla sua mancanza e metà era stato dato alla protezione civile e metà per la vendita, ma in realtà ecco credo che in Italia manchino poi i collegamenti fra le cose, perché poi la protezione civile di fatto non è che l'ha dato agli operatori sanitari o messo a disposizione, o perlomeno io non sono stato informato perché nessuno mi ha detto guarda che noi abbiamo l'alcol se voi puoi usufruirne, ma credo che sia un discorso proprio di mancanza di collegamenti e di informazione tra uno e l'altro, sono tutte entità da noi separate in casa, abito nella stessa abitazione però uno non sa cosa fa l'altro. Gamberini poi c'è anche un problema di rapporti familiari, rimanendo chiusi in casa, chi già prima non andava d'accordo? Sì, entra sempre nel fatto psicologico, come ti dico, il movimento fuori ti aiuta appunto ti fa sentire vivo, ti mette a contatto con la natura e comunque ti rilassa. Chiaramente un ambiente chiuso in situazioni in cui ci sono già dei problemi, specialmente tra i coniugi, beh questi si esasperano, infatti ho assistito a molte situazioni che si sono drammaticamente, sono diventate molto più tese perché l'obbligo di stare attaccati e poi tanti, sai, potevano avere anche una vita non sempre regolare, regolamentata nel senso che magari avevano un compagno o una simpatia o una compagna fuori o semplicemente se voi magari si sfogavano andando a ballare e quindi questo compensava magari le difficoltà che ci potevano essere in un ambiente familiare, l'ambiente familiare certamente è una soluzione ideale, il covid può avere anche rafforzato i legami quando c'è l'accordo, quando c'è la serenità, se non c'è la serenità, se non c'è l'accordo, l'obbligo forzato aumenta le tensioni. Senta, che cosa non le è piaciuto dell'emergenza coronavirus, che cosa non ha funzionato secondo lei? Ma secondo me non ha funzionato, non so cosa è accaduto nelle zone più epidemiche, Bergamo eccetera, se ne è letto, ma chiaramente di persona nessuno di noi è andato a verificare giustamente anche per la paura, perché tutti avevamo paura. Non ha funzionato forse anche la dotazione di materiale, diciamo di protezione, principalmente per gli addetti ai lavori, noi abbiamo ricevuto il materiale dai distretti sanitari, un po' col contagocce e qualche materiale, ad esempio tipo l'alcol per disinfettare l'ambiente, proprio non c'è stato assolutamente dato. Vi siete organizzati da soli? Per la maggioranza organizzati da soli, anche le mascherine, diciamo l'FP2, l'FP3 che all'inizio potevano, anche perché credo che anche l'emergenza abbia reso un po' difficoltà di tutti gli interventi, quindi c'è questo fattore, però l'FP2 e l'FP3 ho dovuto racimolare da pazienti, ho avuto solo quelle normali, ho avuto una mascherina di quelle in plexiglass eccetera, poi una sovratuta, qualche sottotuta, ma comunque il materiale è arrivato col contagocce, è arrivato spesso in ritardo, è arrivato dopo 10 giorni, 15 giorni, qualcosa anche dopo un mese, quindi forse occorreva prima, d'accordo credo che nessuno sapeva, però questo evidenzia che fondamentalmente non siamo un paese, al di là delle parole, che siamo il paese con la sanità migliore del mondo, che è in grado di affrontare l'emergenza, si dovrebbe affrontare l'emergenza prima e lì si entra anche col discorso ospedale di Germona del Friuli ad esempio, che è stato chiuso e sinceramente di fatto chiuso perlomeno come struttura recettiva come era un tempo e poi avevo letto appunto che in caso di emergenza necessità per il coronavirus sarebbe stato attrezzato, diciamo, nel castello di Tricesimo, appunto per raccogliere gli ammalati. Io mi sono chiesto a quel punto, ma perché non si riapre l'ospedale che c'è già di Germona del Friuli, quale se fosse uno stracismo verso quella zona in cui si è evidenziato che non ci sono abbastanza utenti, ma non è colpa dei Germonesi o di quella zona, perché è colpa del terremoto che ha spopolato certe zone del Friuli. Quindi il Friuli ha una sua particolarità che secondo me non è stata mai riconosciuta. Bisogna affrontare la realtà e favorire la popolazione che hai. Dottor Gamberini, grazie. Abbiamo esaurito il tempo, è sempre un piacere parlare con lei. Buon lavoro. Grazie. Salutiamo il dottor Gilberto Gamberini, noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi ancora un po' di rassegna stampa. Arrivederci.